Ben trovati al cosiddetto appuntamento con l'informazione di 50 canale con l'edizione pomeridiana del nostro notiziario di oggi venerdì 24 marzo 2023 che apriamo con l'apertura del camminamento delle mura del giardino Scotto a Pisa, già fissate le date delle prime visite. Noi abbiamo lavorato in questi anni tantissimo sulle manutenzioni ordinarie, abbiamo anche lavorato per cercare di preservare il nostro patrimonio artistico-culturale. Il giardino Scotto ormai da 4 anni è anche luogo dove ci sono manifestazioni durante soprattutto il periodo estivo, ma aveva bisogno di questa ristrutturazione importante. Da una parte l'Arno, dall'altra il verde del giardino Scotto, due livelli, uno in quota a 10 metri, l'altra una galleria a coperta a 6. E il nuovo camminamento delle mura cittadine è aperto dopo un'opera di restauro e ricostruzione. La prima è la ricostruzione della torre, l'antica torre di Sant'Antonio che vede una parte in pietra esistente e poi una parte sommitale invece in legno, all'interno della quale sono stati realizzati sia una scala ma soprattutto anche un ascensore che consentirà alle persone con disabilità di accedere in tutto quello che sarà un doppio percorso. Il primo ad un'altezza di circa 6 metri, coperto, e il secondo invece all'altezza di 10 metri, all'aperto. Si accede dalla ricostruita torre di Sant'Antonio, si arriva sino a superare il sottostante Lungarno. Adesso via libera le visite gratuite grazie all'accordo con Copp Culture. Abbiamo previsto l'apertura tutti i fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il progetto poi prevede il recupero anche dell'ulteriore camminamento, sarà un anello completo che passerà dal Bastione Sangallo. Il Bastione Sangallo è in fase di recupero, vedrà una cosa bellissima, la ricostituzione sulla parte della copertura piana delle antiche alberature come era un tempo. Circa 800 mila euro intanto il costo complessivo di questo intervento in buona parte finanziato con fondi PNRR. Sicuramente una struttura da valorizzare, una struttura che dovrà nei prossimi anni essere punto d'attrazione per il nostro turismo. Finalmente siamo riusciti a portare i turisti sul Lungarno, non era una sfida facile e il completamento e il restauro del Giardino Scotto va proprio in questa direzione.